Allora bello a tutti ragazzi eccoci qua con una nuova recensione di abbigliamento facciale diciamo Allora iniziamo con un elmetto della Royal E vabbè questo elmetto ha insieme a un elmetto vegetato Colorazione mi pare colorazione 2 Guardate dentro E' verde E' verde dentro Quindi se lo volete togliere vabbè è verde Di famiglia Pagato sui 7 euro No 12 Poi mentre qua c'è una maschera facciale Mi pare l'ho presa della NFH E l'ho pagata sui 12 euro mi pare Io l'ho trovata 10 Vabbè 12 euro e devo dire che C'è protegge molto Io mi sono staccato in elmetto e da lì in poi ho preso questa Io invece uso il paradenti Quindi E vabbè è quella con un doppio attacco Quindi è una nazione nuova E' molto più comoda Vedrete tutto E' anche molto diciamo Performale No c'è La potete regolare come volete diciamo Diciamo che è scomoda come non so cosa Ma no dai dipende come fa Qua abbiamo gli occhiali Google sempre della Royal Da 22 euro E vabbè hanno queste prese d'aria Che non funzionano molto Però sono comodissime veramente La scienza da Fomuka Prego Ecco qua Allora hanno Ne ha confezione Vabbè a parte che c'è questo Che è un panno pulente Quindi se Quando ve l'ho taglito Basta che pulite così E allora è già confatto E' la copertura Esatto E' anche la copertura Per proteggere Poi viene fornita Vabbè una 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 lente Trasparente Una lente Gialla 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 e per maggiore luminosità Esatto E vabbè questi fiali All'interno sono di gomma a fiuma Allora spesso di gomma a fiuma E Se vi è piaciuto il video Iscrivetevi Commentate E lasciate un mi piace Ciao